Appuntamento serale del 9 luglio, quindi buonasera a tutto il pubblico di 7 e Goal che si è sintonizzato per seguirci fino alle 20.40. Come sempre questo è un anticipo che non è mai potuto. Esatto, dalla zuppa a vari ritratti, insomma, che sono le herpes perché sono quelle robe recondite. Non so se è un prodotto inglese o americano. Ah, GC, il nostro dottore sicuramente adesso ce lo saprà dire. Non lo so, devo cercarlo perché so di averne... Come 13 si afferma a partire dal 96 grazie al film Larry Flan, oltre lo scandalo poi di Milos Forman ottenendo una nomination al Golden Globe. È la donna, la guardavo e ho fatto alcune immagini. Adesso non lo so. Sì, qua c'è un po' della fattona ecco, però è vicino a... Al 4? Al 660. No, classe 64, quindi 54. E beh, insomma, sicuramente poi vita sfrenata, quindi insomma a volte ecco quella lascia il senti di polizia. Allora abbiamo visto un po' insieme le foto. Giovanissime, infatti sono studentesse. E beh. Allora il sindaco secondo... Giovanissime, infatti sono